ciao amici di napolità non vi muovete perché oggi ho due notizie importantissime da darvi non vi muovete assolutamente per nessun motivo azzeccati qui attaccati allo schermo del telefono del televisore non lo so come ci guardate ma non vi muovete dobbiamo parlare prima di tutto del mercato perché voglio fare un po di chiarimento su quella situazione di osimen perché ieri qualcuno mi ha mandato ci sono arrivate centinaia di messaggi è fatta c'è però calma abbiamo avuto la notizia pochi minuti fa che brescianini deve fare le visite mediche quindi si sta bloccando si sta sbloccando bloccando si è bloccato fine si sta bloccando il mercato e il napoli ma questa è una settimana infuocata quindi prima di iniziare voglio ringraziare tutti i nuovi abbonati e voglio invitare chi sta guardando questo video ad iscriversi al canale ad attivare la campanella delle notifiche e a lasciare un like e un commento a questo video che per noi sono fondamentali ricordatevi che in basso c'è l'app di sofascore il quarkod dove potete praticamente scaricare lo inquadrate scaricate quest'app su tutti i vostri telefonini qualsiasi telefonino app completamente gratuita e ricordatemi sempre www.napolita.it le notizie raga quella è importante perché abbiamo deciso di fare un contest che porterà la vittoria di un buono amazon di 50 euro sì abbiamo deciso di regalarvi 50 euro a quello più bravo a quello più attento vi spiego subito come funziona come vedete qui di fianco a me c'è questo stemma no il loghetto di napolita dorato cosa succederà da domani in ogni nostro video proverete dovete stare attenti perché uscirà questo stemma da per tutto quindi guardate con attenzione il video può uscire all'inizio può uscire alla fine può uscire durante questo ovviamente per quelli più quelli più attenti usciranno questi loghi e che cosa succederà tra un mese preciso io alla fine di un video quindi quello che arriverà al ridosso del mese vi dirò dove dovete andare a scrivere la risposta perché il primo che scriverà la risposta col numero di loghi giusti avrà in regalo un buono amazon di 50 euro sì abbiamo deciso di fare il buono amazon perché può averlo chiunque no in tutto il mondo si può riscattare questo regalo ed è una cosa che vogliamo fare per la community per quelli più attenti quindi ricordatevi da domani nel video che uscirà quello che esce giornaliero ci saranno questi loghetti che vi ho fatto vedere prima mi raccomando fate attenzione e seguite tutto il video poi c'è la seconda notizia che anche questa per me è molto importante quest'anno il palinsesto di napolità resta lo stesso ci saranno pre match e post match però c'è un cambiamento le pre match saranno solo ed esclusivamente per gli abbonati è giusto che gli abbonati abbiano tra virgolette un qualcosa in più è giusto che quelli che ci sono stati vicino e ci hanno dimostrato la loro vicinanza abbiano questo contenuto esclusivo quindi già a partire dalla prima di campionato la pre match che ci sarà sempre alle ore 23 del giorno prima della partita e anche delle partite di coppa italia perché il napoli giocherà ahimè solo il campionato e coppa italia il pre match è solo per gli abbonati vi ricordo sempre che ci sono vari pacchetti per abbonarvi e sono diciamo a vostra disposizione ci sono tutte le cifre e potete ovviamente rientrare nel pre match quindi questa è la novità di quest'anno i post match sono aperti a tutti ovviamente a tutti i follower del canale invece i pre match andiamo ad analizzare come abbiamo sempre fatto attraverso il nostro software andrà a vedere le formazioni probabili andremo anche a sviluppare tutte quelle che sono le dinamiche le costruzioni quest'anno voglio iniziare a fare già un lavoro di costruzione proprio video cioè vi faccio vedere attraverso la lavagna tattica che abbiamo nel nostro software come il napoli può sviluppare che vuol dire la costruzione di catena il napoli come assorbe quali sono le dinamiche offensive quali sono le dinamiche dei centrocampisti quindi andiamo a fare un lavoro specifico e attraverso il nostro software che ci dà a disposizione tanti strumenti per potervi spiegare e farvi vedere il lato tecnico tattico quindi ci sarà veramente da vedere è bello è bello sono delle situazioni importante e poi onestamente vogliamo premiare gli abbonati che sono stati vicino a noi dal primo giorno che abbiamo aperto la sezione abbonamenti quindi è giusto che quest'anno facciamo così ma ora torniamo alle vicende del napoli perché perché ieri c'è questa notizia ve l'ho detto che brescianini farà le visite mediche in 48 ore perché anche questa è la cosa importante ieri nel video mi avete scritto avete palesato un po tutti la preoccupazione la velocità l'essere celeri l'essere veloci perché il napoli ha bisogno di completare l'organico e dobbiamo dire che in questa settimana secondo me ci saranno tantissime operazioni è ovvio che il napoli deve fare delle uscite per liberare gli slot ovviamente è quasi chiusa quasi fatta ca giusta al Bradford e quindi entra brescianini sono chiuse definite le altre due operazioni quella di Gilmour e quella di Neres anche lì però c'è bisogno di fare le uscite e poi c'è il problema perché per tutti è un problema ad oggi è un problema perché poi seguendo le parole di Giovanni Manna Osimè è fuori dal progetto Napoli quindi c'è bisogno dell'attaccante c'è bisogno di Lukaku anche lì tutto sistemato e ad oggi ci arrivano notizie che il presidente De Laurentiis la proprietà sta pensando fortemente di andare subito su Lukaku al di là di quella che è l'operazione di Osimè ieri abbiamo letto tantissime notizie però vi voglio far capire un po' cosa sta succedendo in casa Chelsea perché poi alla fine voglio farvi anche una precisazione sulla questione Juve perché ecco vabbè ve lo dico dopo il Chelsea che cosa sta facendo? Ieri è praticamente tramontata l'operazione Omorodion quindi il giocatore è tornato all'Atletico Madrid e sarà un giocatore dell'Atletico Madrid ci fa sapere il buon Fabrizio Romano che non ci sono dubbi invece per le due operazioni collaterali quelle di Conor Gallagher e Julian Alvarez che stanno per andare all'Atletico Madrid però che cosa succede? Che l'Atletico Madrid vuole fare cassa e deve cercare di vendere quindi l'operazione Omorodion andava praticamente a collegare le tre operazioni che alla fine era come se fossero una sola però si è capito che al di là anche di Omorodion l'Atletico Madrid farà lo stesso Gallagher e Julian Alvarez qual è però la cosa che dobbiamo anche prendere atto e dobbiamo diciamo devo farvi sapere è che anche Joao Felix era stato proposto al Chelsea perché anche qui allora secondo me bisogna fare anche chiarezza per quella che è in questo momento la situazione del Chelsea perché il Chelsea in questo momento ha tipo 50 giocatori rosa cioè deve sfoltire per esempio Madweke potrebbe andare al Newcastle Diego Moreira potrebbe andare in prestito allo Strasburgo ci sono delle operazioni in uscita importanti e anche qui il Chelsea sta soffrendo il mercato un po' come sta facendo il Napoli perché è ovvio che la Rosa la devi sfoltire ah beh il mercato del Chelsea è folle un miliardo e 300 milioni di sterline non voglio sbagliare però capite che operazioni e quanti giocatori ci sono quindi io non riesco ancora a capire come potrebbe entrare Victor Rosimella è ancora un mio dubbio perdonatemi ce l'ho me lo porto avanti perché io vedo invece un Chelsea che sta cercando di vendere lo so che Omorodion non si è chiuso e Omorodion poteva essere quel giocatore che poteva andare arrivare alla corte di Enzo Maresca per poter aumentare il potenziale offensivo però secondo me ad oggi facciamo attenzione perché il Chelsea si sta soprattutto concentrando sulle uscite la questione Joao Felix era una questione inserita per far sì che le casse dell'Atletico Madrid possano assorbire le due operazioni importantissime di Gallagher e Julian Alvarez quindi io li aspetterei ancora per essere felici anche se si sta parlando dell'operazione Lukaku e Sky poco fa ha smentito completamente che Ozyman possa arrivare al Chelsea con un prestito con obbligo questa cosa è tramontata è nata ed è tramontata quindi raga in questo momento io non me la sento di dire che la situazione è risolta bisogna aspettare spero realmente che nel frattempo si prenda Lukaku e si iniziano a fare le operazioni perché qual è stato il messaggio che ci ha mandato Conte al di là delle parole post partita quello che abbiamo visto durante la partita perché Conte è uno che le partite le legge avete visto come in ritardo secondo me ve l'ho detto nel video di ieri ma ovviamente ricordatevi sempre che io non mi permetto di sostituirmi a Conte ci mancherebbe anche però noi se siamo qui esprimiamo le nostre opinioni perché le mie come le vostre quelle nei commenti sono opinioni liberissime per me andavano fatti quei cambi e il cambio soprattutto di sistema di gioco un po' prima contro il Modena ma su dettagli e questo però che cosa ci fa capire che anche i sostituti servono a Conte perché sto leggendo un po' e sto stendendo un po' anche i giornalisti dire vabbè ma quelli sono sostituti che fa no invece no sono fondamentali per Conte perché Conte è il classico allenatore che durante le partite ha l'idea di cambiare sistema di gioco di cambiare un ruolo in base all'interpretazione perché ecco Brescianini potrebbe essere il vice Anghissà magari lui però il vice Anghissà con caratteristiche diverse quindi al tecnico può servire già contro il Verona perché è uno che mette mano alla squadra quando vede che non si sta sbloccando quindi è giusto che in questa settimana si chiudano anche quei giocatori che per tutti sono sostituti perché anche per me partono come sostituti però potrebbero essere utilissimi durante la gara è importante andare a chiudere questa cosa però ecco diventiamo ridondanti perché io credo che qui l'analisi va al di là di la faccia in Mambres, bigliami giocatori anche questo lo sto stendendo un po' però noi ecco dobbiamo fare una ricostruzione realistica sì li prendiamo però deve uscire perché è giusto, deve uscire Mario Luì o Angesus per far sì che entrano gli altri bisogna sistemare la situazione Chedira bisogna sistemare la situazione Ngong perché non si sa Ngong è Barra Politano perché poi arriva Neres e bisogna capire dove metterlo cioè no dove metterlo chi far uscire per Neres ma proprio a livello numerico manco a livello di slot perché non penso che tu puoi tenere tre giocatori che giocano tendenzialmente tre quartista di destra devi cercare di più quindi al di là dei soldi, al di là dell'operazione Osemen è un momento di stallo l'ho detto il Chelsea e ora ahimè devo farvi l'esempio purtroppo con la Juventus io non sono manco d'accordo con quelli che scrivono e dicono ma a noi che ce ne frega noi dobbiamo guardare il Napoli no, non è così perché noi dobbiamo avere un parametro dobbiamo capire anche le altre del nostro campionato come si stanno muovendo perché ripeto il Napoli non è un mondo a sé il Napoli è una squadra di calcio come le altre è una squadra di calcio che in questo momento sta affrontando il mercato come le altre allora è giusto che noi andiamo a vedere anche le altre cosa stanno facendo ma non per dire quello è meglio noi siamo peggio o altro perché quelle opinioni sono anche rispettabili però dobbiamo anche percepire quali sono i problemi in questo momento andiamo a parlare della Juve la Juve in questo momento ha praticamente fallito quelli che erano i primi obiettivi per esempio Calafiorito, Di Bo, Sancio, Adeiemi sono giocatori che Giuntoli aveva inquadrato ma non è riuscito a prendere poi ha dovuto vendere velocemente quelli che erano i talenti della next gen quanto si è parlato di questa next gen per far sì che con quei giocatori poi tu potevi mettere a posto i bilanci e però no perché Giuntoli in questo caso li ha svenduti oppure li ha venduti velocemente per chiudere le operazioni che Frenturam e David Luiz Douglas Luiz lo chiamo sempre David Luiz sempre quello con i capelli tipo Capariz mi ricorda? Douglas Luiz perché? Cioè sulle e poi è stato venduto abbastanza bene ma Usain, Iling Junior, Barrenecea sono tutti giocatori che sono stati venduti in modo veloce per far sì che potevi fare queste due operazioni ma nel frattempo la Juve e ripeto per essere chiaro non mi sto mettendo a paragone ma è corretto andare ad analizzare anche cosa fanno le altre nel nostro campionato perché potremmo parlare anche dell'Atalanta che in questo momento è il mercato bloccato stava prendendo Pubil però si sono bloccate le visite mediche possono succedere queste cose nel mercato quindi bisogna mettere tutto nel calderone per fare un'analisi anche la nostra squadra è troppo riduttivo non è da noi dire noi siamo il Napoli ammabili a tutto quanto ce ne deve fregare il presidente deve mettere tutti fuori rosa perché andiamo di fretta no, dovremmo cercare di fare una ricostruzione che poi può far sì che le cose si incrocino no? è questa la cosa importante la Juve per esempio ha fatto partire Rabiot a zero in questo momento ha tutti i esuberi e i esuberi importanti Cesni, Giallo, Rugani Facundo González, Nicolussi Caviglia Arthur McKennie, De Sciglio, Chiesa e Milik che sono quasi 50 milioni di ingaggio che ha praticamente fermo ed è una super iper rivoluzione che uno come è giunto lì se trovava un mercato congruo che poteva avere i soldi della Premier che non ci sono per la questione controlli i soldi della rabbia che non ci sono perché la rabbia all'improvviso ha deciso di chiudere i rubinetti e questo vi fa capire che non è solo il Napoli sono un po' tutte le squadre che si sono imbattute in questo rallentamento globale del mercato questa è un'analisi che noi dobbiamo fare non è per attaccare la Juve, per attaccare Giuntali per farvi capire che è un momento nevralgico e non è di peso per forza da errori fatti dal club e chiudo facendo una differenza dell'informazione perché Conte è uscito diretto dopo Napoli-Modena a sottolineare una cosa ovvia ribadisco le mie parole, il mio pensiero e tutti i giornali non vedevano l'ora di sottolineare quella cosa la differenza c'è a Torino perché Tiago Motta con questa barahonda che vi ho detto prima, perché è una barahonda se ci pensi parla e dice tutto a posto abbiamo tutto sotto controllo è tutto programmato non ci sono problemi a sette giorni dalla prima partita con tutte quelle cose che vi ho detto vedete come sono diverse le narrative e ora ditemi voi qual è la migliore perché poi tutto sport apre dicendo Tiago Motta è serenissimo ovviamente non scrive proprio così ma ci fa capire questo e a differenza invece è Conte in Bufali è questo che dobbiamo mettere sulla bilancia perché poi dobbiamo sempre ricordare che Conte è tra virgolette un privilegiato perché ha la stampa mica però in questo caso noi dobbiamo sfruttarlo a nostro favore dobbiamo sperare che vada tutto bene è già da noi dobbiamo già noi fare una politica di protezione perché se no prestiamo il fianco a quelli che non vedono l'ora parlo ovviamente dei giornali nazionali direi ecco qui Conte a DL si prendono ammazzate sullo yacht del presidente a Capri perché quello lì stiamo per arrivare lì quindi attenzione notiamo tutto noi dobbiamo essere attenti a notare tutto poi è ovvio che sotto ai commenti del video potete scrivere ma a me non me ne frega niente io domani voglio Lukaku Simen e se riesci pure Joe Felix una volta che l'hai nominato vabbè però dobbiamo andare a capire dov'è che ci stanno attaccando e dov'è che invece c'è chi vuole cercare di fare una ricostruzione onesta in base a quello che sta succedendo perché ripeto il mercato è globale raga noi partecipiamo a un mercato che non è solo il Napoli il Napoli fa quello che vuole è il Napoli inserito in un mercato globale e il Napoli deve purtroppo si velocizzare vi ripeto settimana di fuoco però anche cercare di essere bravo a trovare gli incastri ragazzi io vi saluto un bacio e un abbraccio da Sasa vi ricordo da domani inizia il contest vi raccomando un bacio e un abbraccio da Sasa e sempre Forza Napoli Ciao